Cosa avvenne prima, durante e dopo quella terribile sera del 1 agosto del 2022 al bar del Parco di Pescara? Come sono state condotte le indagini e come si sono acquisiti i riscontri utili a comporre i legami inconfutabili, secondo la pubblica accusa, tra le vittime e gli imputati nel processo di uno dei più efferati crimini accaduti negli ultimi dieci anni nel capoluogo adriatico? Tutto questo è emerso nella lunga mattinata in Corte d'Assisi a Chieti per l'inizio del dibattimento sull'omicidio di Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito a seguito di un vero e proprio agguato sul banco dei testimoni il capo della scuola mobile di Pescara Gianluca Di Frischia che, servendosi anche di immagini e foto, ha illustrato alla Corte preseduta dal giudice Guido Campli i momenti salienti, potendo contare tra l'altro sull'analisi di ben 37 impianti di videosorveglianza pubblici e privati sparsi per la città. Sono le 19.15 del 1 agosto, Walter Albi e Luca Cavallito arrivano al bar del parco si sistemano in un tavolo nella De Orde locale Cavallito entra nel bar, massaggia con qualcuno e poi, verosimilmente, fa delle ordinazioni dei comportamenti, si evince che due, stanno aspettando qualcuno vengono aggiunte delle sedie intorno al tavolo e quando arrivano le pizze, alle 19.51 i due non le toccano, anzi Cavallito le fotografa e manda un messaggio come a comunicare ad ignoti che le pizze sono pronte. Intanto alle 19.52 dalle telecamere il primo passaggio di uno scooter con a bordo un uomo con il giubbotto nero, un casco e un paio di guanti bianchi dopo un paio di giri parcheggia lo scooter un X-Max Yamaha con le quattro frecce inserite e si dirige verso il De Orde. Qui appena vede i due, dalla parte laterale, da via Ravasco, la prima scarica di colpi, ben quattro poi entra, si avvicina e spara due colpi su Albi e altri due su Cavallito e si dà alla fuga ricostruito anche l'itinerario della fuga. Da via Ravasco fino all'ingresso dell'asse attrezzato ai Colli per uscire poi all'aeroporto e imboccare via Fontanelle. Aspetto questo importante perché gli inquirenti riescono a individuare un luogo in strada vicinale del Pantano, zona boschiva raggiungibile appunto da Fontanelle dove viene rinvenuto inizialmente il 31 agosto lo scooter e poi nei giorni successivi dopo aver dovuto disboscare l'area con un decespugliatore, la scocca del telefono di Cavallito completamente distrutto, il casco utilizzato per l'agguato ma soprattutto la pistola smontata dalle cui analisi è stato accertato essere non solo quella utilizzata per l'agguato ma anche quella rubata a una guardia giurata l'11 luglio a Cepagatti alla rapina del centro agroalimentare per la quale sono stati condannati due dei tre imputati Maurizio Longo e Cosimo Nobile. E qui si apre il capitolo dei legami tra vittime e presunti colpevoli. Nobile doveva ricevere da Cavallito un ingente somma di denaro, per questa ragione i due avevano pesantemente litigato e avevano interrotto bruscamente i rapporti già da giugno. Non ci sono contatti diretti tra Nobile e Albi ma qui interviene il terzo elemento, colui che viene chiamato Lo Zio. Natale Ursino era stato Cavallito a presentarlo ad Albi con il quale stava portando avanti il progetto per la realizzazione di un hotel galleggiante al porto turistico di Pescara e la cui conoscenza con Ursino, personaggio noto nell'ambito delle indagini sull'andrangheta di Locri, l'avrebbe potuto aiutare al fine di reperire liquidità per finanziare fantomatici progetti con una società di Londra, ma con a capo un altro personaggio calabrese e che gli avrebbe consentito di svincolare un ingente patrimonio. In questo contesto, avendo una patente nautica, la disponibilità di Albi ad effettuare traversate transoceaniche per il trasporto presumibilmente di grossi quantità di stupefacente. Ma cosa lega Ursino a Nobile? Durante una perquisizione a casa di Nobile vengono rinvenute due impegnative mediche intestate a Leonardo Ursino, padre di Natale. Per quanto riguarda invece Longo, lo suo DNA viene rinvenuto sul casco di un'altra moto, rubata, trovata sempre in strada vicinale del Pantano. Ovviamente siamo in piena fase indiziaria, molto altro dovrà essere analizzato, soprattutto dalla trascrizione delle intercettazioni che saranno depositate l'8 giugno prossimo, mentre la prossima udienza si dovrebbe tenere non prima della fine del prossimo mese.